Santiago Lorenzo Sueiro Voi sapete che è un scrittore molto importante e lo vedevi nella precedente intervista nel show Count Vardalti di What's Your Rights e ha avuto molto successo ora siamo in Barcellona e sta un progetto molto interessante per marzo per marzo parliamo in spagnolo no problemi vengono alla scuola spagnolo è molto popolare quindi puoi capire spagnolo ovviamente ora parliamo in spagnolo e Santiago che è mio amico e che sono molto orgoglioso di essere suo amico va a dire cose molto interessanti su questo evento di marzo molto interessante su questo evento di marzo in spagnolo in spagnolo in barcellona in uno dei barrii più importanti di barcellona se fa un evento che è per unire le culturazioni tanto di Catalina come di Galicia come di la propria spagnolo e questo è molto importante per la fuzione della cultura in modo di prendere la cultura importante in un paese molto importante come Spagna che ci sarà un evento che durerà 4 giorni in cui sono invitati molti importanti artisti spagnoli delle tre culturazioni saranno canzioni di varie 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 conemb autonomy con popoli conenzi conoscler conoscler Il lugar è San Andreu della Barca, che è un barrio periferico di Barcelona. Anche altre informazioni sulle qualità? Il coro di Galicia, il mismo che va alla quinta avenida di New York tutti gli anni, che è di Gaita Gallegos e di Gaita Gallegos. Fantastico. Quindi... ...so... ...we'll take care to this big event of... ...like to underline cultures, you know, in the same country. This means the country, the union of the country, you know, to make a solid... ...to give the possibility to all the people to see their roots, you know, their origin. Origen. Ok. Ehm... ...està quali'era... ...otra novedad, otra noticia... ...bueno, así... ...que concerne a ti personalmente... ...està una... ...bueno, che sto ora a punto di editar il secondo libro di leggenda di Galicia. ...e' una cosa importante, sì. ...y che già dentro di New Letter Miami, se stanno già editando. ...entonces sono... Florida, Miami. Ok. ...son... ...los edita la Asociazione di Gallegos di Miami, la Asociazione di Empresari di Gallegos di Miami. ...y... ...està molto contento... ...entonces cada dia me piden más. Fantástico. Entonces, thank you so much. Shukran Gesillan. Grazie molto. Merci beaucoup. Ehm... Thank you all the time for your worldwide attention. Thank you. Bye. Bye bye. Thank you. Bye.